Il pulsante. Il pulsante è un dispositivo molto simile all'interruttore unipolare. Come l'interruttore, infatti, esso possiede due contatti, uno e due, ed una levetta in materiale conduttore che consente di interrompere o attivare il collegamento tra questi due contatti. Il pulsante ha però in più un dispositivo a molla che tiene costantemente aperto il collegamento tra i due contatti. Solo quando il pulsante viene premuto, come in questo caso, si stabilisce il collegamento tra i due contatti del pulsante. Ma questo collegamento si interrompe immediatamente, come possiamo vedere dall'esempio in figura, nel momento in cui il pulsante non viene più premuto. Si osserva, da questa figura, che un meccanismo di questo tipo non risulta utile per l'accensione delle lampade, poiché per tenerle accese dovremmo tenere costantemente premuto il pulsante. Un meccanismo di questo tipo, però, può risultare utile nel caso di un campanello, che invece si desidera far suonare solo per il tempo in cui il pulsante viene premuto. Il campanello, in questo caso, possiede due contatti da alimentare con fase e neutro. Attraverso l'utilizzo di un pulsante, come in questo caso, è possibile collegare o scollegare il conduttore di fase al campanello. In modo tale che solo quando il pulsante viene premuto, il campanello sarà alimentato e produrrà un suono. Quando il pulsante non sarà più premuto, il campanello terminerà di suonare.